Sì, qua su, sopra la scala, ti faccio portare giù un po' di cose. La scala ora, vuole i bastoni per le tende, mi sa. Di dove stanno le tende? Ah, capi. Ho stampato alcune etichette, vedi un po' se sono usciti. No, non già, non quelli di sotto, non mi interessa quelli di sotto. Quindi stanno di qua giù, la metta lì su qui. Sì, sì, ci sono dei tecnici che hanno spostato la macchinetta lì nell'abbiamento. Controlla se sono uscite le etichette. Adesso, non mi è uscita niente. Adesso sì. 28,90 euro, non mi è uscita? Adesso, 28,90 euro, 29,90 euro. Ok. Da sotto, dovrei stare a tutti segnali in direzione, vediamo se uno è segnali di bagno, però tacchiamo sulla porta di... Puoi vieni un attimo qua, vestiti? Puoi vieni un attimo qua, vestiti? Arrivo. Davanti alla cassa. Avvio la cosa per i porti. Ok, ok. Arrivo. Davanti alla cassa. Io la cosa per i porti. Ok, ok. La prenderlo lento a scuola. Una dei due, intanto mangia, no? Dopo la cambia. Due, mangia vai, mangia, Giuliano. Massimo. 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 Massimo, no? Massimo, vieni un attimo alla cassa. Io non mi dicono. Ok, dicimo, stiamoci da Massimo. Un secondo i capelli e poi... Senti, vieni un po' qua a casa. Senti, vieni un po' qua a casa. Trovate un po' qua. Per i capelli, quel piccolino. Qua c'è un fondo, dove è messo? Qua c'è un fondo per i capelli, sotto a casa. Dove è messo? Allora, dentro il magazzino dove mette le borse, là, no? Ci stanno due o tre sacchettini di centure. Me lo porti uno di qua, così comincio a prestare io di quella la cassa. Senti, Anna. Sì. Signora, carica una cosa? Non so. Sì. Ma, ma, qui le borse non ci sono le custodie per i computer. Cioè, io ho, ehm, ho cartato soltanto le borse. Qui non ci sono le custodie per i computer. Sì. Andrei. Vieni un po' qua. Sì, mi piace. Senti, una signora sotto. Se puoi salire. Mi ha dato un po' qua, chieda, 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 chieda. Sì. Sì. Pald ... Sì. 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 un attimo di sopra bene io ho mostrato un attimo fuori no sotto giù è già arrivato è entrato e qualcuno è nata ma posso sentire altri 65 non so niente luce 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 magari ok ma le cinti sono registrate già chi era ce l'hai tu fa male prendi quello verde allora ma fa male gorgia quello verde ho pareto sopra ma io no non ce l'ho massimo ah stato 2 che ce l'hai ora palmare trovato delle piante per le targhettine portanomi cancelleria guarda lì alletamento sopra ma le scinte sono registrate già? guarda ce la dupa male prendi quello verde allora una palmare? giorgia quello verde c'era al porto ma lì tu sopra che giorgia? no no non ce l'ho massimo tab 2 che c'era? allora palmare trovato delle piante ore per le targhettine portanomi cancelleria guarda lì alletamento sopra alletamento è importante Grazie a tutti.